Ciao a tutti, mi chiamo Frank Pellegrino per gli Amici Pelle. Innanzitutto volevo ringraziare Cristia Montagna per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo progetto The All Blood, progetto molto ambizioso che vede le testimonianze di molti personaggi appartenenti alla scena underground italiana e non solo. Mi è stato chiesto un po' di raccontare quali siano state le motivazioni che mi hanno portato a far parte di questo mondo, a suonare eccetera. Sono classe 1981, sono nato e cresciuto a San Vita Tagliamento, una ridente cittadina in provincia di Pordenone in Friuli e sin dalla giovane età ho avuto un buon rapporto con la musica, a otto anni iniziò a studiare pianoforte per poi lasciarlo un paio di anni dopo. Però il mio vero viaggio musicale inizia esattamente nel 1993. Ero in seconda media, alcuni amici mi passarono le prime cassette, quindi i primi ascolti, ricordo Kill the Mondo di Metallica, Nevermind di Nirvana, Nevermind di Bologues di Six Pistols, eccetera. Insomma, i primi ascolti erano le cose più mainstream che circolavano in quel periodo. In più, mio compagno di classe, nonché migliore amico dell'epoca, mi chiese di formare una band. Lui aveva appena iniziato a suonare il basso, il fratello vendeva la batteria, insomma, me la feci regalare per il compleanno dei miei 13 anni. Insomma, porto a casa questa batteria senza averla più palida idea di come si montasse, di come si suonasse, proprio non avevo alba, quindi nacque tutto un po' per caso. Avevo comunque la fortuna di vivere in campagna, quindi svuotai questa casetta di legno che avevo in giardino a casa di miei genitori e la di Bia a sala prova, insomma. E quindi qualche giorno dopo affittammo un impianto voce e con un paio di amici formavamo la prima band. La prima band era, insomma, non sapevamo neanche suonare, eravamo poi alle prime armi. Ci ispiravamo a queste band che vedevamo su Video Music, su MTV, vari Green Day, Nirvana, Offsprings, Rancid, ricordo Rage of the Machine, però ovviamente eravamo anni luce da poter eseguire i brani in maniera, insomma, soddisfacente. Comunque, niente, iniziamo con le cover, dopo un po' di tempo iniziamo a fare pezzi nostri, iniziavano i primi concertini e l'anno dopo, nel 1994, con Hobie Day, insomma, questa compagnia di ragazzi un po' più vecchi di me di qualche anno, e insomma cominciò a girare con loro. Era una, insomma, eravamo alla fine un gruppo di disadattati, vari punk, metallari, frichettoni, però tutti con, insomma, lo stesso, la stessa passione per la musica. Quindi questi ragazzi, insomma, mi passarono le prime cassette di genere più underground. Ricordo queste compilation con vari Misfits, Bad Religion, Agnostic Front, Pantera, Sepultura, La Pandette, insomma, c'era un mescolone di vari generi, dal punk più becero, al punk un po' più mainstream, al metal estremo, al metal più, insomma, più in voga, eccetera, eccetera. Insomma, quindi le mie influenze in quegli anni erano abbastanza articolate, non posso dire che ascoltassi solo metal o solo punk, ascoltavo un po' tutto ciò che era estremo, underground. Quindi la sala prove che avevo allestito diventò un po' il punto di riferimento, insomma, della compagnia dell'epoca. Formammo diverse band con questi ragazzi, alcune durarono qualche giorno, alcune qualche mese e altre addirittura qualche anno. Con un paio di band abbiamo anche registrato, insomma, dei dischi. Da lì in poi cominciamo a fare concertini nella cittadina, appunto a San Vito a Tagliamento, organizzati dalla Proloco, dal Comune, e poi cominciamo, insomma, verso fine 94-95 a spostarci anche a Pordenone. Io ero molto giovane, all'epoca per me Pordenone era, insomma, era la città, nonostante fosse comunque, guardandolo adesso, fosse un paesotto, una cittadina a malapena 80.000 abitanti, però comunque con una storia musicale molto importante. Innanzitutto volevo citare Pordenone, perché sin dalla fine degli anni 70 è stata una delle città più importanti per quanto riguarda il movimento punk in Italia, ma anche in Europa. In quegli anni ci furono molte band, appunto, del movimento punk, New Wave, Industrial, che diedero vito a questa scena chiamata The Great Complotto. Per citare alcune di queste band, le più importanti, insomma, le più famose, ricordo i Hitler SS, i Tampax, Ice in the Ice. Appunto, alcune di queste band si esibirono durante gli anni 80 anche in Inghilterra e altre città europee. Fu una scena molto importante che alla fine scemò, alla fine degli anni 80, ma molti di questi personaggi, insomma, contribuirono negli anni a venire, negli anni 90, a mantenere viva, diciamo, la scena underground pordenonese, formando altre band, organizzando festival, concerti, aprendo negozi di dischi e via dicendo. La mia esperienza col, diciamo, il panorama musicale pordenonese nasce alla fine del 1995, quando con la mia compagnia, insomma, cominciamo a frequentare Pordenone. Si arrivava il sabato pomeriggio, dopo pranzo, in stazione, e a 100 metri alla stazione c'era questo negozietto di dischi chiamato Virus, un negozietto molto piccolo, era un buco, una stanzetta, ma molto fornita. Insomma, passavamo lì un paio d'ore a scartabellare i dischi, si poteva trovare un sacco di roba del panorama underground italiano, panorama punk hardcore, raw power, negazione, indigesti, Upset Noise, Eusars, e un sacco di roba americana. Si poteva trovare roba degli Agnostic Front, ai Ramons, ai Suicidal Tennis, Murphy's Law, Chromex, Black Flag, e insomma, via dicendo, avevano un sacco di merchandise, magliette, e insomma, era un po' il meeting point del primo pomeriggio. Dopo un paio d'ore, insomma, a guardare i dischi, ci dirigevamo verso Piazza 20 Settembre, che all'epoca chiamavamo il Molo. Il Molo perché in ogni angolo della piazza si formava un gruppo di diversa appartenenza musicale. C'erano i rapper, c'erano i dark, c'erano i metallari, i punk, gli skater, se via dicendo. Però alla fine si passava il pomeriggio, insomma, tutti insieme a scambiarci cassette, a parlare di musica, a parlare di concerti, a bere qualche birretta, e talvolta aspettando il concerto del sabato sera. Fu un periodo molto importante anche per gli anni a venire, insomma, furono anni molto importanti per la mia crescita musicale. Uno degli aspetti fondamentali della mia vita musicale fu quello di iniziare ad andare a vedere i concerti. Fino al, diciamo, fine 1995, ricordo i concerti più fighi, che mi sono rimasti dei grandi ricordi, furono gli Extrema, suonarono un paio di volte in dei club nella provincia di Treviso, era il tour di The Positive Pressure of Injustice, e ricordo che erano delle macchine da guerra. Però arriva il 1996, e esattamente il 20 gennaio andai a vedere i Ramons, al palazzetto dello sport. Ricordo questo piccolo aneddoto, che ero seduto fuori dal palazzetto con delle amici a parlare, e verso le 3-4 pomeriggio arriva questo furgone bianco. Scende Gioi Ramons, sorretto da due persone, e vi di, io ero a due metri di distanza, vi di che non riuscivo neanche a camminare, gli tremavano queste gambe, e mi chiesi ma come fa questo a cantare, a fare concerto, esibirsi? E niente, arriva l'ora del concerto, e niente, fecerò più di due ore di concerto. One, two, three, four, one, two, three, four, un pezzo dietro l'altra. Boh, probabilmente si era preso qualcosa di veramente potente, ma fu un concerto che mi cambiò la vita. Fu un game changer per me, insomma, come si suol dire. Da lì in poi, insomma, decisi che la mia vita era quella. Vedere queste band al vivo mi dite l'ispirazione di, insomma, di volere fare solo quello come mestiere, di andare in tour. All'epoca erano solo sogni, erano cose che... Andavo a dormire sognando di fare musicista. Quindi, insomma, da lì in poi misi, tra virgolette, firma. Quell'anno ci furono altri eventi che mi cambiarono profondamente. Ricordo, prima dell'estate, vedi Inapal Def, al Rototone di Gadi Spilimbergo, altro club molto importante per la scena musicale. Però un altro evento che mi cambiò profondamente furono in sepoltura a dicembre del 1996. Dopo quel concerto, insomma, decisi che la mia strada dovesse diventare il metal. Sia a livello di ascolti, sia a livello come, insomma, batterista. Mi piaceva più la tecnica, mi piaceva più. Vedevo questi batteristi con mille tom, mille casse, eccetera, insomma. Fu un concerto alla Madonna e da lì in poi mi fece crescere i capelli e vai di metal. Insomma, arrivo in 1997 e mi appassiono al metal. Nel senso, divento metal art, mi faccio crescere i capelli, chiodo, magliette delle varie band e ampio il mio set di batteria, due gran casse, quattro tombe, timpani, mille piatti. I miei ascolti diventano molto più settoriali, cioè mi dedico al metal 100%, sepoltura, slayer, megadeth, metallica, pantera e poi anche il metal più estremo, cioè da lì in poi comincio a dedicarmi al metal più, al brutal death, al grand core, vari cannibal corpse, napandetti, carcass, morbid angel, brutal truth, i death, i sinister, dei side e via dicendo. Ovviamente voglio formare una band metal, voglio suonare metal, anche perché il metal era molto più interessante per un batterista, insomma, suonare metal piuttosto che suonare punk, era molto più stimolante. Quindi niente, conobbi dei ragazzi dalla provincia di Porto Croire, formiamo la prima band, ovviamente facendo cover, vari Metallica, Black Sabbath, Sepultura e poi qualche mese dopo veni contattato da questa band chiamata Sepolchra, Sepolchra era una band metal, death metal della provincia di Udine, all'epoca erano già sotto contratto discografico con lo Sferatu Records. Lo Sferatu Records era un'etichetta di Catania, penso all'epoca l'etichetta più grossa già produceva i Sadist, i Decoded, gli Schizzo, i Flash Terrorist, insomma, il medio del panorama italiano anni 90. Quindi per me era un sogno, insomma, entrare a far parte di questa band, anche perché la band era già recensita in varie riviste specializzate come Grind Zone, Metal Hammer, Metal Shock ed era finita anche su un libro chiamato Inchiesta su Rock Satanico perché il vecchio batterista faceva parte, insomma, di questa setta chiamati Bambini di Satana e, insomma, rilasciò un'intervista in questo libro. Quindi niente, entro a far parte di questa band, iniziamo a provare, ovviamente concerti pochissimi, si passa tanto tempo in sala prove a scrivere pezzi, ovviamente pezzi da sei minuti con 200.000 riff, però, insomma, per me è stato un anno, soprattutto nel 1997, molto figo, insomma, è stato l'inizio per me del suonare Death Metal che poi ho continuato per svariati anni. Nel dicembre del 1997 ad Aviano, in provincia di Pordenone, in questo club, il Velvet, locale storico, punto di riferimento per la scena underground, vennero a suonare gli agnostics front. Quindi con la compagnia, con gli amici, decidiamo di andare al concerto. Ricordo che entrai in questo club e c'era un pubblico un po' diverso dal solito, c'era un pubblico più variegato, se vogliamo. C'era metallari, punk, skinheads, skaters, militari della base americana, insomma, un pubblico diverso dal solito, meno settoriale. Iniziano a suonare gli agnostics front una manata in faccia, cioè un'esplosione, un'attitudine pazzesca, qualcosa che non avevo visto mai prima, no? Prima, diciamo, i concerti game changer per me sono stati Ramones, però era una band punk rock'n'roll o i sepultura che erano più, insomma, metal, metal 100%. Gli agnostics front era un mix fra il punk e il metal, avevano queste chitarre trash, però con dei singalong molto punk, quindi era un insieme delle due cose, che per me fu una novità in qualche modo, poi vedere una band del genere, dal vivo, fu un altro game changer, fu qualcosa che mi fece avvicinare a New York hardcore. Ricordo comunque che tornai a casa pieno di botte, con un bernoccoli in testa gigante, insomma, però dentro di me cambiò qualcosa. Fu una band che mi fece avvicinare di più a quel genere musicale. Ricordo poi, appunto, il 98, taglia i capelli, fu l'anno di transizione dal metal all'hardcore, ma anche per una serie di circostanze, insomma, io crescevo e anche l'interesse verso i testi. Queste band hardcore comunque avevano dei testi sociali, politici, mentre le band che ascoltavo, che mi ero legato insomma, prima, come appunto tutte queste band metal, avevano testi più magari passavano dal satanismo agli squartamenti, insomma, qualcosa che cominciai a perdere interesse in qualche modo. Quindi, insomma, dal 98 in poi cambiai, insomma, look e mi dedicai più all'hardcore. Quindi dal 98 iniziai prevalentemente a seguire la scene hardcore, nonostante continuasse a suonare quei Sepolcral, a suonare death metal, perché comunque per me suonare quel genere era pagante, soprattutto a livello tecnico. Il metal la considero ancora insomma, la mia scuola di musica. Ovviamente volevo suonare hardcore, quindi con questi ragazzi della mia città, insomma, di San Vito Attagliamento, con chi iniziai a suonare sin da subito, il Daltonic Outcry, che all'epoca insomma era una band con diverse influenze musicali, dal punk hardcore al punk melodico allo ska punk, decidiamo di dare un'impronta più New York hardcore. quindi ci chiudiamo in sala prove a scrivere pezzi di quel genere. Quell'anno fu un anno molto importante, vi di un sacco di concerti, insomma, fra Velvet e Rototom, ci furono un sacco di band da oltreoceano, ricordo che vi di Sicofitol, Biohazard, Madball, Murphy's Law, ma anche band europee come Barcode e Backfire. In quell'anno quindi inizio anche a frequentare il liceo a Pordenone, comincio a fare nuove amicizie, soprattutto con i ragazzi della scena punk hardcore pordenonese, che cominciano a passare insomma cassette, cd, e inizio a espandere ulteriormente le mie conoscenze musicali, anche perché all'epoca appunto, non essendoci social come Spotify, YouTube, probabilmente non si poteva neanche scaricare musica, internet era ancora agli albori. Quindi, inizio ad ascoltare oltre alle band che ho citato prima del New York hardcore, band più old school come Youth of Today, Gorilla Biscuits, Lee Shelter, The Slapshot, No For An Answer, c'è No Strength, o anche band con influenze più metal come Hell Crisis e Strife. In più, quell'anno comincio a frequentare anche i centri sociali, anche perché erano gli unici posti che ospitavano concerti di quel tipo di musica. Entro a far parte di questo collettivo anarchico il Gata Negra dove si organizzava appunto serate, concerti e si cominciano ad andare in manifestazioni. Quindi comincio ad avere anche una coscienza più politica, comincio a vedere la musica anche sotto un diverso aspetto, non una cosa puramente estetica o puramente musicale, ma dare anche un contesto più sociale e politico. Quindi dalla fine degli anni 90 iniziai a frequentare in maniera più assidua i centri sociali, anche perché a parte qualche club erano gli unici posti che organizzavano concerti di musica underground. Quindi iniziai anche a uscire dalla provincia, andare a Treviso, a Padova, a Mestre, a Udine. Iniziai quindi a conoscere personaggi e band al di fuori della città di Pordenone, a stringere legami con altre band. Appunto, noi invitavamo band a Pordenone e loro ci invitavano appunto in altre città del nord-est. Si creò quindi questo legame fra la scena, fra band che comunque anche di diverso genere dall'arcore più estremo al crust punk, all'Oi, Skinhead, al post-arcore, insomma, ricordo queste band soprattutto da Mestre, Giuzzaru, l'amico di Bartucci, i Raptus da Marghera, i The Secret da Trieste, i Cimex, i Senza Sicura da Treviso, insomma, la scena era parecchio attiva. I centri sociali furono molto importanti per quanto riguarda anche l'aggregazione, l'autoproduzione. Questi posti avevano spazi per provare, per stampare merchandise, fanzine, insomma, ci si ritrovava a fare festa, a parlare di politica, a scambiarci materiale, musicale, dischi, cassette, magliette e via dicendo. Il discorso per quanto mi riguarda andò avanti fino al 2000. Quando parte della scena cominciò a frequentare i rave party, le feste e io non capivo quale fosse il nesso fra il punk e la musica tecno. Anche perché da ragazzino ho sempre odiato le discoteche, prendevamo per il culo i discotecari, quindi la scena cominciò insomma a cambiare in un certo modo. Pordenone quindi cominciò a diventarmi un po' stretta e decisi che era il momento di lasciare la città e di cercare un posto dove la scena musicale fosse ancora attiva. Nell'estate del 2000 decisi di andarmene da Pordenone per fare nuove esperienze e andai a vivere a Londra. Ovviamente fu un'esperienza incredibile soprattutto per me insomma che vengo da una realtà di provincia ritrovarmi in una metropole fu incredibile. Fin da subito iniziai a frequentare i concerti c'erano un sacco di locali quello che ricordo di più ovviamente era l'Underworld e ricordo questo aneddoto che andai a vedere gli Archangel e il Langued of Time e fu la prima volta che vidi questo pubblico fare Violent Dance se prima insomma i concerti hardcore erano insomma pogo stage diving c'era questa attitudine più punk lì c'era un'attitudine completamente diversa c'erano questi ragazzi che ruoteavano come trottoli si prendevano a calci i pugni in faccia ovviamente la cosa non è che mi esaltasse però fu qualcosa che insomma cambiò un po' il mio punto di vista anche perché queste band di hardcore avevano ben poco era questa nuova scena diciamo chiamavano hardcore ma aveva un sacco di mosh party super beat down lente insomma era un nuovo tipo di hardcore veniva dal Belgio dall'Inghilterra e dall'Olanda e comunque passo un paio di stagioni a Londra a lavorare nel 2001 ritorno in Italia e oltre ai soliti concerti in zona comincio anche a frequentare la scena skinhead ricordo inizio ad andare ai concerti dei Nabat classe criminale i 2-up i Corona Infame da Roma i Razza Parte e stringo amicizia con questa band di Torino di scontro divento amico del cantante che nel 2002 durante una festa nei Paesi Baschi mi chiese di entrare a far parte della band io ci pensai un attimo e gli ho detto ma perché no e così nell'autunno del 2002 mi trasferi a Torino insomma nel 2002 mi trasferisco a Torino città incredibile in pieno fermento musicale un sacco di band un sacco di concerti insomma era un po' quello che stavo cercando volevo far parte di una scena musicale soprattutto hardcore Torino vantava comunque una storia importante per quanto riguarda l'hardcore è stata città natale di negazione nero orgasmo blue vomit declino insomma e tante altre band e anche lì i concerti venivano organizzati fondamentalmente nei posti occupati in primis il Pasgo il Delta House la Scatasuna l'Alcova Rosalia l'asilo occupato ma insomma di realtà ce ne erano parecchie insomma entrai da subito a far parte appunto della scena musicale torinese iniziai da subito a suonare con gli scontro iniziamo a fare un sacco di date in giro per l'Italia gli scontro era una band oi oi con influenze punk hardcore però legata comunque a movimento politico come la Sharp la Rush nel 2003 registrammo il primo disco America Assassina prodotto da Amphibio Records e nello stesso anno entrai anche a far parte di un'altra band di Stanley Strong alla chitarra che era una band appunto oi hardcore e sempre a fine 2003 mi chiesero di entrare a far parte dei Wap Time i Wap Time era una band puramente in stile New York hardcore quindi era un genere che mi calzava pennello insomma ero contentissimo di entrare a far parte di questa band quindi con loro registrai subito dopo Mi Vida Loca nello studio di Danny Giordana storico fonico di un sacco di band americane come i Biohazard Monster Mania 8breed e iniziamo anche con loro a fare un sacco di live in giro per l'Italia nel 2004 organizziamo il primo tour europeo insomma erano un sacco di date due settimane in giro per l'Europa tra Germania Polonia Austria Svizzera Repubblica Ceca Ungheria insieme a questa band The Vendetta che era una band punk rock and roll di Piacenza ricordo insomma che il nostro driver fu Giulio cantante di Creeple Bastards comunque tour della Madonna la mia prima vera esperienza di un tour lungo insomma torniamo a casa con un bagaglio davvero importante per farlo in breve insomma la mia esperienza musicale torinese far parte del Torino Arccore fu un'esperienza incredibile degli anni a seguire insomma feci parte di altri progetti come Torino Rottenro Squad Nicky Radio insomma erano progetti nati per divertirsi con personaggi di varie band come Arturo Medusa Alan Ripley Lino Info insomma poi formai band come I Concrete Block dalle cenere dei dei Wap Time e C-CAD registrai diversi dischi anche un altro disco con gli scontri presi parte a organizzare comunque concerti nei vari dei vari post occupati ma anche nacquero anche locali come lo United Club dove tutta la scena era attiva nell'organizzare insomma eventi e niente ho ricordi fu uno dei periodi più belli insomma della mia vita a Torino insomma ringrazio tutti i ragazzi che hanno suato con me che hanno contribuito insomma alla mia crescita musicale insomma Torino comunque quegli anni fu un esempio di di scena musicale comunque compatta al di là del genere musicale perché Torino hardcore non era solo hardcore o punk ma prendeva dentro anche un sacco di band che potessero suonare rock and roll punk rock metal insomma era più che altro un marchio il nostro marchio di fabbrica insomma la mia avventura torinese comunque finisce nel 2012 quando anche per motivi personali decido di tornare a Pordenone nel frattempo comunque mi ero appassionato al al videomaking iniziai comunque verso appunto il 2008 2009 a a fare video per le band a studiare videomaking iniziai con una macchinetta fotografica per poi comprare insomma una reflex e appunto anche quell'anno iniziai a suonare con questa band l'embrace extraction che era con dei ragazzi di Milano un ragazzo di caserta Domenico mio caro amico cantante dei Fessi Renemi appunto con questa band iniziamo a andare in giro in tour per Europa quindi cominciai anche a conoscere il panorama un po' diverso cominciai a conoscere altri personaggi della scena hardcore soprattutto in Olanda in Belgio in Germania e in Inghilterra fu una band che mi diede molta spinta mi fece conoscere qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo vissuto prima a Torino appunto tornando al videomaking torno a casa inizio a a dedicarmi Anime Corpo a fare video e il primo video che feci fu con una band di Londra i No Second Chance che fu appunto una band con cui andai in tour con gli Inverse Distraction un paio d'anni prima faccio faccio video a questa band e un anno dopo veni contattato da questa band i Bus & Glory da lì mi si apre un altro mondo quindi finisce il capitolo torinese 2012 torno a vivere a Pordenone lascio tutti i miei progetti che avevo appunto lì e mi dedico a fare videomaker appunto come dicevo prima mi contatta questa band Bus & Glory da Londra che era una band puramente oi melodico street punk faccio questo video all'Ono Skinhead Crew e in poco tempo insomma questa canzone diventa super virale questo video ha un sacco di views arriva a qualche milione e quindi cominciarono a chiamarmi un sacco di altre band del giro street punk oi europeo dai Last Resort ai Root Pride spagnoli ai Root Arch Rivals di Plymouth altre band del giro italiano ma anche hardcore e nel frattempo ovviamente avevo anche voglia di suonare rimisi in piedi Sepolchral registramo uno split rimisi in piedi da Tonic Outcry registramo questo disco Back in My Town dopo insomma un sacco di anni disco puramente hardcore misi in piedi un altro progetto Rock & Roll Ant Abusers anche lì registramo un disco e veni contattato anche dai Face Your Enemy band di vecchia conoscenza che il batterista insomma se ne andò e trae nella formazione che con loro distrae comunque negli anni a venire un paio di dischi insomma mi rimisi in gioco a Pordenone e nel 2015 appunto il cantante dei Boots & Glory mi chiamò e mi chiese di entrare nella formazione comunque era una band che già iniziava a suonare in festival grossi europei with Full Force a Rebellion in Inghilterra quindi insomma io avevo voglia di suonare avevo voglia di suonare dal vivo e avevo voglia di suonare davanti in situazioni comunque grosse e comunque accettai quindi da 2015 2016 feci il primo concerto con loro appunto a Berlino all'Astra al Punk & Disorderly e da lì in poi insomma dedicai a parte Face Your Enemy che facciamo qualche altro tour in Spagna dedicai gran parte del tempo ai Boots & Glory arriva il 2016 e inizia un altro capitolo della mia vita appunto dopo il concerto a Berlino entro in formazione ufficiale e decidemmo insomma di chiuderci in sala prove per scrivere il nuovo album così a fine anno andiamo in studio al Perry Bay la Londra e registriamo Chapter 4 arriva il 2017 insomma organizziamo un centinaio di date in giro per il mondo proviamo insomma proviamo a diventare una band full time lasciamo il lavoro e e niente iniziamo ad andare in giro per l'Europa poi gli Stati Uniti iniziano i festival estivi e lì fu per me il primo comunque tutte le esperienze sono state grandiose però i palchi grossi iniziano appunto da quell'estate lì 2017 quando inizio a suonare all'Hellfest With Full Force Rebellion comunque tutti i festival da migliaia e migliaia e migliaia di persone ma soprattutto condividere il palco con artisti come Slayer Aerosmith Linkin Park Rancid Suicide of Tennis Is Dumb potrei fare una lista infinita insomma sono band con cui avrei mai immaginato di condividere il palco e niente sempre a fine anno decidiamo di comunque organizziamo anche un tour in Giappone ci chiamano a suonare anche in Sud America insieme ai Dropkick Marfys insomma a fine anno andiamo anche in tour con i Brawlers che è una band conosciutissima qua in Germania e facciamo anche lì insomma concertoni alle arene dove suonarono Sting i Rolling Stones insomma esperienze incredibili che mai mi sarei immaginato 2018 uguale organizziamo sempre più di un centinaio di date in giro per il mondo facciamo sempre Europa Stati Uniti altri festival incredibili tre più importanti se no il più importante il Poland Rock in Polonia uno dei forse il festival outdoor più grosso che c'è appunto in Europa forse nel mondo più di mezzo milione di persone studiamo nel main stage quella giornata lì c'erano band del calibro di Arch Enemy Judas Priest insomma non si riusciva a vedere la fine del pubblico eravamo in diretta tv nazionale insomma un'altra esperienza incredibile non riuscivo neanche a vedere i componenti della mia band erano a 50-100 metri un palco enorme poi 2018 anche lì decidiamo di fare un tour in Australia Indonesia insomma il nostro obiettivo era quello di farci conoscere girando il più possibile girando il mondo andando anche in posti remoti dove solitamente le band non vanno 2019 riusciamo a a entrare nel build del Persistence Tour quindi il mio primo tour in tour bus quindi con le corriere e corrierone con i letti si dormiva insomma di sopra e sotto si faceva festa Persistence Tour appunto con Municipal Waste Ignite Seek of It All Walls of Jericho Siberia Meat Grinder due settimane in giro per l'Europa altra esperienza incredibile soprattutto condividere gli spazi con band con cui sono cresciuto vedevo negli anni 90 su Video Music in TV anche lì nel 2018 decidiamo poi di registrare un altro disco e decidiamo di farci produrre da Mattias Farm il chitarrista di Milan Colling quindi andiamo in Svezia e registriamo Chapter 4 registriamo il disco e comunque poi ah sì un'altra super esperienza fu nel marzo sempre 2019 il St. Patrick Tour con i Dropkick Marfis quindi eravamo il main support di tutto il tour in giro per l'America quindi quasi 30 date da Boston a Boston praticamente abbiamo fatto il giro di tutta l'America dal dal nord alla Florida al sud al Midwest insomma altra esperienza incredibile soprattutto perché ho avuto la fortuna di suonare in club storici come ricordo il McCain questo club che era forse il più brutto rispetto al resto del tour ma storico dove suonò Johnny Cash i Sex Pistols a Tulsa in Tulsa non ricordo lo stato forse beh comunque e e niente 2019 altro superanno comunque registriamo Hurricane questo disco appunto in Svezia e decidiamo di comunque fare questo tour in tour base insieme ai Giuda e agli Analogues tra novembre e dicembre 30 date che andarono da dio quasi metà del tour sold out e poi niente continuiamo insomma la band era ben avviata e nel 2020 organizziamo altre un sacco di altre date e ovviamente arrivò il ovviamente non ovviamente ma arrivò il il covid il covid insomma ha distrutto più o meno gran parte di quello che insomma l'industria musicale i concerti ma anche la socialità insomma molte cose sono cambiate insomma dal dal covid insomma lo chiamiamo anche l'era pre-covid e post-covid insomma un po' come avanti Cristo e dopo Cristo e comunque vabbè nel 2021 ci rimettiamo in piedi cominciamo un tour in Inghilterra siamo ritornati quest'anno negli Stati Uniti insomma le cose pian piano stanno riprendendo piede e e niente questa è un po' la mia la mia storia il mio percorso che ho avuto negli anni e insomma ringrazio tutte le persone con cui ho avuto progetti e con tutte le persone che hanno suonato con me che mi hanno sopportato e supportato e sopportato e e niente ringrazio Cristian per avermi dato di nuovo l'opportunità appunto di parlare dei miei progetti e niente grazie a voi che ascolterete questa questa mezz'ora di ruotura di cazzo e ciao a tutti e ci si vede in giro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti